Papa Francesco ha ricevuto in udienza questa mattina il Presidente della Repubblica di Polonia, Andrei Duda. Nel corso dei cordiali colloqui, riferisce la Sala Stampa Vaticana, è stato rilevato il contributo positivo della Chiesa Cattolica alla società polacca, anche in vista della visita che il Papa compierà a Cracovia il prossimo anno, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù. Successivamente ci si è soffermati su alcuni temi di comune interesse, come la promozione della famiglia e sostegno ai cittadini sociali più bisognosi e l'accoglienza di migranti. Infine sono state discusse alcune tematiche che riguardano la comunità internazionale, come la pace, la sicurezza, il conflitto in Ucraina e la situazione nel Medio Oriente.